Assoluto, tu che ci ossessionavi con la parola umanità. A cento anni dalla nascita di Per Paolo Pasolini torna a rendere omaggio a questo grande poeta. Sì, dopo il debutto a Passaggi Festival volevamo replicare questo breve spettacolo dedicato a Pasolini in un contesto un po' particolare. Pasolini non è da teatro borghese e pensando ci è venuto in mente questo magnifico posto che è il Museo della Batteria, un posto pieno di arte ma crudo, come è giusto che sia per questo testo di Oriana Fallaci, lucido e senza fronzoli come poi era la grande Oriana Fallaci. Chi ha curato la regia e chi saranno gli altri ospiti? La regia è del grande maestro Leandro Castellani che mi ha fatto l'onore di dirigermi in questo spettacolo e non lo ringrazierò mai abbastanza perché è grazie a lui se dopo tanti anni sono tornata su un palco importante. Con me sul palco ci sarà Pietro Conversano che aprirà e chiuderà lo spettacolo con due magnifiche poesie, una di Ottiero Ottieri e l'altra di Edoardo De Filippo appunto sulla morte di Pasolini. Quando si terrà questo spettacolo? Lo spettacolo sarà domenica 4 alle ore 18 al Museo della Batteria. e Arthur Rainbow in confronto diventavano...